Black Friday offerte acquisti c'è chi la chiama Americanata che mette in difficoltà le attività, soprattutto quelle piccole e storiche. Chi invece la considera un'opportunità, chi ancora non acquisterà neanche in questa occasione perché ritiene i prezzi sempre esageratamente elevati. Insomma, tra crisi e temperature miti che evidentemente scoraggiano gli acquisti per l'inverno, noi andiamo in centro a Bari per vedere come sta andando. Noi non abbiamo aderito per scelta aziendale al Black Friday, ma è una scelta che portiamo avanti ormai da tanti anni, ovvero da quando questa Americanata, perché è un'Americanata, è arrivata anche in Italia. Voi avete aderito? Assolutissimamente no, è un'Americanata e queste cose negative importate dall'America non ci interessano. Noi commercianti e soprattutto i commercianti storici hanno ben a mente il valore della propria merce, la qualità della propria merce e quindi la fatica soprattutto di portare a termine il proprio lavoro, visto che ci sono adesso anche le piattaforme e-commerce che stanno rovinando l'attività, la piccola attività. Lei aderisce al Black Friday? Sostanzialmente sì, apriamo al Black Friday facendo quasi tutta la settimana di promozione. Come sta andando? Purtroppo non va un granché bene, la gente non spende. Approfitterai delle offerte del Black Friday? Assolutamente sì, soprattutto negli shop online, perché solitamente le percentuali di sconto sono maggiori. Sì, magari do uno sguardo online, poi magari mi riequi a un negozio fisico se dovesse aver tempo. Non tutti i negozi hanno aderito, quelli che hanno aderito hanno aderito soltanto su alcuni articoli, comunque è tutto molto caro, quindi no.